con questo monologo inizio per forza con Dybala ma vi dico subito il mio pensiero allora per me è già il passato quello che è successo adesso c'è un Dybala che vestirà la maglia della Roma per il prossimo anno perciò penso già al futuro, penso a costruire una squadra con Dybala e penso soprattutto a una squadra con Dybala in campo Dybala nella Roma ragazzi deve trovare un posto da titolare però con gli acquisti sulle Dobbic c'è un pochino da vedere qualche cosina per quanto riguarda la situazione prendiamola l'ufficialità che Dybala rimane alla Roma senza fare polemiche per i tifosi della Roma perché gli piace la città e tutto quanto poi vi dico che proprio prima di andare live se Dybala è rimasta a Roma tanto tantissimo è per la moglie e per qualcosa che non gli è piaciuto da parte della società adesso vediamo quello che succede magari se rinnova il contratto con le presenze oppure se la Roma spalmerà il contratto di certo credo che si è capito che la Roma ci è rimasta male anche perché Dybala non lo ha comunicato prima alla Roma ma ha fatto il post quel video era un post d'addio che era stato preparato il giorno prima quel video d'addio e quel posto lui lo modifica con due parole e lo fa di permanenza la Roma credo ci è rimasta male perché non glielo ha comunicato prima però ragazzi quello che è successo è successo adesso pensiamo al presente da quello che la chiacchierata che mi sono fatto ieri sera mi hanno detto comunque di stare tranquillo che la Roma completerà la squadra certo è che c'era un mercato con l'uscita di Dybala e ci sarà un mercato con Dybala ragazzi i conti parlano chiaro io però mi aspetto una portafogliata dei presidenti anche perché devono coprire le lacune dei suoi dirigenti che ha scelto lui perché lui ha scelto l'Inasoluku e lui ha scelto Ghisolfi che hanno fatto un casino su sta situazione di Dybala che ha comunque è stata una situazione che ha portato malumore nella piazza malessere nella squadra e queste cose poi le riporti anche in campo e forse abbiamo perso quei due punti a Cagliari perciò io mi aspetto che cessioni o non cessioni qualche cosa dei grandi diciamo dei giocatori forti arrivi a prescinde proprio perché magari i Frecchier anche per aiutare i Tagnari de Ross perché se no veramente io vedo una stagione difficile se non facciamo un mercato di un certo livello ad oggi in Arabia Saudita non è una mia notizia rinanciano tutti il nome di Abdul che non è stato neanche convocato per giocare la partita con la sua squadra e forse questo è il motivo perché la Roma non manda l'offerta scritta per Assignone e se non la manda entro oggi Assignone non verrà la Roma allora secondo me la Roma è in mano proprio in mano la Roma ha chiuso già Abdullah ne fa uno visto che non esce di bala spendendo pochissimo perché dovrebbero essere due milioni e mezzo il costo 3-4 milioni di euro spendendo pochissimi e ne fa uno per il resto a me continuano a dire che la Roma è vicina a Danzo che non manca molto il giocatore ha dato già lo che al trasferimento i procuratori ammettono della trattativa credo che manca un altro rilancio e Danzo potrebbe essere il giocatore della Roma per quanto riguarda il centrocampo non so nulla per venire Manu Conè vuol dire che ai presidenti gli parte la brocca solo questo può far venire Manu Conè e per quanto riguarda altre cose allora Bove non andrà a Napoli Bove molto probabilmente o rimane a Roma o va all'estero ma non in Italia Zaleschi scambio con Gonge a me lo smentiscono lo so che ha dato la notizia di marzo e tutto quanto io ho un'altra notizia a me me lo smentiscono Gonge Zaleschi forse Zaleschi e non lo so ma mi sembra più veritiera l'opzione PSV dove la Roma incasserebbe qualche soldino e farebbe tutta plus valenza anche se risparmio dell'ingaggio sarebbe veramente poco per altre cose vediamo se Abram magari trova una squadra da qui a fine mercato io so sincero a me se se arrivasse un'offerta di un club che offrirebbe per Abram un prestito onereoso con diritto con diritto di riscatto io l'accetterei accetterei perché Giovede vanno a giocare perché risparmi un ingaggio importante e puoi fare anche un altro calciatore per quanto riguarda l'attacco io prima della situazione di Bala mi dicevano che la Roma era fra Pardo e Bogà però se esce Zaleschi vediamo cosa succede vediamo cosa succede magari non lo so può prendere anche in prestito un gonge non lo so però i procuratori di Ingoge per dire sono molto amici di Ghisolfi è un'agenzia molto vicina a Ghisolfi tocca tenerla d'occhio sta cosa però mi smentiscono a me scambio Zaleschi in Gonge oggi però ripeto ragazzi questa è la notizia mia che mi permetto da qua e non ho neanche dato su Twitter perché smentì Di Marzio secondo me è anche una mancanza di rispetto io non mi posso permettere di smentì Di Marzio però io ve lo dico non faccio Twitter ma ve lo dico a me mi hanno detto altro nel senso che non è vero e come come Bove non si farà al Napoli adesso niente ragazzi mancano quasi sei giorni perché è quasi finito venerdì un altro po' e io spero che la Roma abbia tutto chiaro in mente quello che deve fare e spero che non sia rimasto alla decisione di Di Bala perché poi credo che un rischio c'era che poteva dire di no perché la moglie veramente non voleva andare perciò se un rischio c'era se un rischio c'era io spero che la Roma abbia lavorato contemporaneamente in un piano B dove è tutto bello chiaro mancano quattro giocatori perché se rimane Di Bala non ne puoi fa cinque quattro 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 mancano ci esce soprattutto Zadeschi perché se no in teoria pure tre però quattro mancano facciamo questi tre quattro giocatori vediamo il livello chiudiamo sto mercato e vediamo poi la squadra in campo il 31 sono molto blando con la società dicendo solo che secondo me devono a fine mercato io proprio li caccerei via per quello che è successo con Di Bala però rimango ancora cauto calmo perché a sette giorni di calcio mercato a meno voglio come completano la squadra questo è poi fra sette giorni ne riparliamo intanto c'è una partita con l'Empoli stadio tutto esaurito e domenica non si può sbagliare di Bala chi sentimenti credo che partire a titolare e non si può proprio sbagliare contro l'Empoli di Aversa allora monologo terminato monologo del